Grazie, in realtà io dirò pochissime parole prevalentemente di ringraziamento, di ringraziamento ovviamente all'ufficio di presidenza, consigliere Foti che devo dire con un pizzico di invidia da parte nostra ha avuto questa bella idea e ringrazio comunque tutto l'ufficio di presidenza e l'assemblea per ospitare qui le opere di una figura che come sapete per noi è stato e rimarrà sempre un punto di riferimento. Tra il Movimento 5 Stelle e Dario Fo era nato un amore, un grande amore che poi è rimasto nel tempo e continuerà a rimanere. È ovvio che venire qui in regione e trovare delle sue opere per noi è una gioia e quindi insomma possiamo essere grati non solo all'assemblea, all'ufficio di presidenza per aver accolto questa proposta ma soprattutto a Dario Fo per memoria un contributo che ha dato anche al nostro interno che sicuramente noi teniamo come un piccolo tesoro perché la ricchezza che ha rappresentato come artista, come uomo di cultura e come portatore di idee e appunto di crescita anche all'interno del nostro movimento politico resterà. Alcuni di noi hanno anche avuto la fortuna di incrociare il proprio cammino anche per tre istanti con lui. Io sono una delle fortunate che ha avuto occasione di conoscerlo e quindi insomma ci fa molto piacere che ci sia questa mostra. ovviamente ci auguriamo che poi queste iniziative vista la vastità dell'opera del maestro si ripeteranno poi nel tempo. Grazie.